Che viene giù qua? No, viene giù di via. Guarda la botola, la porto giù io, ma... Porco mondo. Ha paura, eh. Ascolta, fa, scendere che io vorrò giù adesso. Ciao. Genis. No, ma quando sei qualcuno che arriva soffia. I gatti. Eh, ah sì? Ma cosa fa? E beh, allora tu dici che quanto ha questa? Questa è cinque mesi. Adesso più o meno con apertura all'area siamo a 160-170. E poi arriverà? Pesa due chili e mezzo, due chili e sei. Quando essere adulta arriverà sui due metri, 190, ancora 20-30 centimetri di apertura all'area. E su un peso di 4 chili, 4 chili e due. Con un 50% cresce, circa. Più che come struttura cresci come forza muscolare adesso. Genis, genis, ciao. È una femmina poi, per cui è già molto più grosse. Come tutti i rapaci sono più grosse le femmine e i maschi. Oh sì? Solo i rapaci, quello di solito, in natura, tutti i maschi sono... Sì, dipende, sì, comunque, i rapaci sì. Ma penso. Sì, diciamo che in natura riesce a tirare giù anche un piccolo di capriolo, uno stambecco, fino a 10-12 chili e volpi. Ecco. Li hanno trovato nelle borre anche, ecco, perché loro rigettano il pelo e le ossa delle peli di lupo, per cui anche i cuccioli di lupo... Quando gli capita, soprattutto le femmine, le femmine sono molto feroci perché hanno bisogno di molto cibo. Quando sono piccoli ti mangiano un casino. Quando era piccola mangiava mezzo chilo di carne al giorno. Cioè, quella che era un chilo, lei, mangiava mezzo chilo di carne al giorno. Quando ce ne ha quattro piccoli, più loro, il maschio così, deve puntare a prete molto più grosse, per cui diventano molto più feroci, molto più aggressivi. Posso scendere adesso? Eh? O devi farlo andare via per scendere? No, no, eh. Non faccio rumore. Eh? Non faccio rumore con la scala. No, 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 no. Attacchi, attacchi.